Ciao, io sono Ilaria, studio giurisprudenza, sono al primo anno, quindi sono una matricola. Nello studio la forza di andare avanti è tantissima perché ogni libro è un mattone. Nella vita la mia forza è stata tanta, ho un passato bruttissimo, però sono fiera di quello che sono oggi perché grazie alla forza che ho ricevuto, innanzitutto da me stessa e dalla mia famiglia, che è stato il mio supporto e che io ringrazierò per tutta la vita, che io oggi sono quella che sono, che sorrido e oggi infatti il mio motto è sorridere sempre. Oggi posso dire con grande fermezza che non mi fermerà mai nessuno nella vita e veramente ringrazio anche Luca Bete per questo bellissimo discorso che mi ha davvero, davvero commossa infinitamente e non ci ferma nessuno ragazzi. Grazie a tutti.